Altrettanto importanti devono ancora essere cercorsi e messi insieme per raggiungere I colori sono quelli ma al centro nella banda bianca c'è lo scudo San Paudo e infine 2 giugno 1946 la bandiera della nuova Repubblica italiana Queste sono i quattro Come me ho avuto la fortuna di partecipare ai grandissimi festeggiamenti del 1961 Che sono stati veramente un momento di grande situazione che mi piace trasmettere Che ho provato a trasmettere a mio figlio e ai ragazzi con cui parlavo dell'unità Sapete che il mio figlio è tra gli esforzi Non solo con l'unità ma prima ancora per un fatto di una cosa importante Tanto per periodolo più buono Anche persone che si ritorna Soprì aspetta Soprì aspetta Vi credo Aspetta Soprì aspetta Aspetta Soprì aspetta Guarda